Vorrei anche ringraziare tutto il Bologna, dal Presidente al Magazziniere, perché mi hanno fatto capire in questi giorni che sono veramente uno di famiglia e che mi vogliono bene, insieme ai miei giocatori. E questo per me è una cosa importante, perché come ho detto ai miei giocatori, io questa sfida la vinco, ma ho bisogno di aiuto, di persone che mi vogliono bene, da mia famiglia, dai miei amici, da gente che sta con me, che lavora con me. E ho avuto questa dimostrazione e devo dire, questi giorni ho pianto molto, ma ho pianto solo quando vedo un certo messaggio, quando vedo una cosa che mi commuove. Ma non mi piace che uno viene e mi piange, perché non mi piace che uno mi vede che sono una, come posso dire, che gli faccio pena. Io non devo far pena a nessuno e non faccio pena a nessuno. Io sto bene e sono a posto.